Mi chiamo Ania e sono rumena. Mi hanno cacciato dal funerale del mio amante e l'ultimo uomo che ha avuto mi ha solamente ingannato, dicendomi che avrebbe divorziato. E questa è la mia storia, a cominciare. La mia infanzia non è stata per niente facile, ho sofferto molto. Mia madre aveva cinque figli con due uomini diversi. Io e mia sorella avevamo poco di differenza. Ha fatto i primi due figli col primo uomo, poi un altro col secondo, poi mia sorella con il primo uomo e infine sono arrivata io. In realtà voleva farmi andare via, voleva abortirmi, ma mio padre l'ha impedito perché voleva un maschio. E quando sono nata è stata una delusione. Mia sorella era poco più grande di me. Di nove mesi. Lei ha fatto sempre tantissime differenze tra di noi e io mi chiedevo sempre che cosa avessi fatto di male, di cosa avessi di sbagliato rispetto a lei. Infatti anche alla festa di 18 anni lei ebbe una festa meravigliosa. A me non mi dite manco gli auguri. Mi disse che non c'era la possibilità di farmi una festa. Mi sentivo messa da parte, inutile. Incontrò mio marito che era ancora molto giovane. Siamo stati insieme sette anni, abbiamo avuto una figlia. Lui aveva poca voglia di lavorare e non faceva lavorare neanche me perché era molto geloso. E così quando siamo arrivati proprio al limite, che non potevamo pagarci né l'affitto né anche da mangiare, lo lascio. Dopo un po' di tempo incontrò quest'uomo sposato. Lo so, non è giusto. Ma quest'uomo mi dava tantissime attenzioni. Siamo stati insieme quattro anni. Loro erano dei miei clienti perché ho lavorato in un ristorante. Una volta lui venne con la moglie. Mi senti molto male. E mi senti molto male anche quando andai a casa sua sapendo che quella era casa della moglie. Ma nonostante ai miei sensi di colpa non riuscivo a fermarmi perché mi attaccai a quell'uomo con tutte le mie forze perché mi faceva stare bene. Mi faceva sentire amata. Mi ricordo ci sentimo un pomeriggio e mi disse comprami le sigarette, vieni a casa. Ridevamo, scherzavamo. Tutti sapevano che stavamo insieme, anche i suoi amici. E mentre andavo a casa sua, mi chiamò un suo collega di lavoro e mi disse che lui aveva avuto un infarto ed era morto sul colpo. Mi senti male. Il giorno del funerale volevo andarlo a salutare, ma i suoi amici mi cacciarono. Mi dissero che quello era il giorno della famiglia e che io non ero ben accetta. Setti malissimo, mai mi sentivo morire. Facevo due lavori, facevo fare due sport a mia figlia proprio per tenerla occupata. Non le facevo mancare niente, ma dentro di me mi sentivo ormai un'altra donna, troppo dolore. Dopo un po' di tempo incontro quest'altro uomo, rumeno. È un po' più grande di me. Lui diceva che mi amava, che era sposato, ma doveva avere questo divorzio. Io all'inizio lo credetti. Poi mi ricordo un Natale, una vigilia. Invitammo tante persone a casa. Lui era andato in Romania per fare questo divorzio. Non venne, venne tardi, disse che c'era stato un problema. Quando lui tornò io gli chiesi immediatamente le carte del divorzio. Lui mi disse prima che era andato il fratello, che c'erano stati dei problemi con i documenti. Poi, visto che io insistivo così tanto, mi disse che la moglie alla fine non voleva più il divorzio. Capì che mi stava prendendo in giro. Che in realtà io per lui ero solo l'amante. E non avrei voluto di nuovo passare tutto quello che aveva passato con l'altro uomo. Capì di essere stato preso in giro nuovamente. Ed è per questo che faccio questo video. Faccio questo video per dire di non credere agli uomini. Soprattutto agli uomini sposati, quando vi dicono che lasceranno la vostra libertà. Che lasceranno sua moglie. Per stare insieme a voi. Perché non lo faranno mai. Purtroppo noi ci accontentiamo delle briciole. Speriamo. Ma sono speranze vane. Perché la verità è che gli uomini che lasciano le moglie sono veramente rari. E' difficile. Non impossibile. Ma difficile. E nel frattempo che loro ci prendono in giro noi passiamo anni di vita ad aspettare. Consumandosi. Per quel poco di amore che ci offrono. Come sto oggi? Delusa? Affranta? Fortunatamente mia figlia oggi è una donna indipendente. Che ha grandi soddisfazioni. E questo mi riempie il cuore. E chissà che magari un giorno non riesca a incontrare un uomo che sia sincero e che mi ami e che non mi dica più bugie. Buona vita. Buona vita.